ma quando loro mi hanno spostato nella fitoterapia mi sono innamorato della medicina naturale perché era tutto un altro mondo era era da scoprire questo mondo sono domenico cannello ho vissuto in statuniti per 28 anni lì iniziato tutto il mio percorso di vita ho lavorato presso un'azienda farmaceutica e aveva anche un altro settore della fitoterapia la passione era così preso da me iniziato a conoscere la spaggia perché siamo unici in italia che produce la spageria reale è lungo ma dopo alla fine io sto dando una medicina universale naturale voglio imparare ancora perché c'è da scoprirmi nella natura la prima farmacia è la natura le piante